Altre tre ragazze, mi raccomando, spero che non ci siano politici più, basta, per cortesia. Vediamo, scopriamo l'altra fotografia, vai! Eeeh! Che bella coppia! Calmi, guardate, guardate pure che questi sono due belli uomini. Guardate ragazze! Ha vinto l'Oscar come miglior attore non protagonista. Chi tra i due? Via! Via col tempo! Via! Ma sono tremende lo scomisse! Cristina, abbia pazienza. Vai un po' a verificare Massimo, vai! Bell'uomo, senza dubbio bell'uomo è questo signore. Svevina, Bell'Uomo, no? Bell'uomo. No? No, non è bello, perché è bello questo signore? Sì. Molto, piace molto. Speccato che per voi questo sia il presidente dell'Udc, Pier Ferdinando Casini quindi la risposta è sbagliata la risposta giusta era questa George Clooney in ogni caso si sono confuse dallo sguardo Pier Ferdinando è un bell'uomo